Nicolas, l'Italia a questo europeo è attesa un po' al barco dopo il bel cammino estivo dall'argento mondiale, la vittoria in World League, anche la bella Sardinia Cup, insomma una squadra che tutti aspettano di incontrare e di affrontare con al massimo della tensione. Sì, anche noi aspettiamo di incontrare tutti e di sfidarci con tutti quanti, sì perché siamo un bel gruppo, c'è una bella alchimia in acqua, tutti secondo me giocatori di una qualità incredibile ma non solo in 15 che stanno qua, siamo 17-18 giocatori di una qualità incredibile e siamo curiosi anche noi perché alla fine sì il mondiale si è arrivato ai secondi, non ti dico una sorpresa perché poi quando stai in acqua le sensazioni le senti, però si è arrivato secondo, una squadra in costruzione, adesso ci siamo, noi come tutte le partite abbiamo giocato quest'estate, tutti i tornei, andiamo a giocare per vincere qualsiasi partita e qualsiasi cosa, quindi vediamo dove arriviamo. Ecco, e dove può arrivare questo settebello? Può arrivare in alto, può arrivare in alto, sicuramente, ovviamente noi puntiamo, come ti ho detto, a vincere tutte le partite, secondo me questa è una squadra che si può togliere grandi soddisfazioni, non solamente magari all'europeo ma in futuro, può dar vita a un bel gruppo, sai c'è una bella, poi sta a noi, dobbiamo continuare a lavorare, noi ci alleniamo tanto, tutti forti, questo è il bello da squadra, nessuno si tira mai indietro, vanno tutti al 100% da allenamento alla partita, quando ti giri ti senti con le spalle coperte, quindi c'è proprio un piacere a giocare tra di noi e te l'ho detto, vediamo che succede. Senti, è una squadra dove ci sono tanti giovani che premono per entrare, si stanno facendo largo, spingono per rubare il posto ai più anziani. Sì, sì, ma è giusto così, è giusto, questa è secondo me una delle cose più importanti della squadra, perché poi quando sei più, devo dire che nella nostra squadra anziani non ce ne stanno per fortuna, c'è qualcuno che inizia però non ce ne stanno, quando tu sei un po' più grande, diciamo, e ti vedi dietro i giovani che spingono, anche tu dai qualcosa in più in allenamento, anche perché poi nello sport non si smette mai di imparare, tu puoi imparare a qualsiasi età, puoi imparare una cosa nuova, anche solo come mette le gambe, come migliora, quindi abbiamo tutti i giovani che vogliono entrare, ma ben vengano, più vengono meglio so, vai andiamo, vediamo che succede, ci alleniamo tutti forti e vediamo. E guardando questi più giovani, tipo Francesco Condemmi, 18 anni, ripensi al Nicolas giovane che si affacciava nel mondo dell'azzurro? Certo, 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 era emozionante, io infatti cerco qualche pacca, li faccio stare tranquilli, provo a fare un po' il fratello maggiore, ci proviamo tutti quanti, perché come ho detto siamo un bel gruppo, era emozionante, ma ti dico la verità, non ti smetti mai di dire, guarda qua, entri in piscina, vedi una piscina così, poi hai fatto le competizioni che vuoi, hai vinto quello che ti pare, ma è sempre come la prima volta. Grazie.